Mombrini è a Caravaggio, Bergamo, in via Leonardo da Vinci numero 88 La Mombrini opera nel settore dell'industria alimentare con la realizzazione chiavi in mano di pavimenti e rivestimenti antiacido La soluzione migliore è rappresentata dal binomio piestrelle e inclinder sigillate con resine epossidiche con sistemi di scarico in acciaio inox dell'ultima generazione 50 anni di esperienza hanno portato Gianni Mombrini e la sua azienda ad operare oggi nei più svariati settori alimentari dalla lavorazione del latte e del formaggio all'industria dolciaria al trattamento delle carni e alla stagionatura dei prosciutti dalla lavorazione del pesce fresco e surgelato all'industria conserviera dall'imbottigliamento delle bevande al settore vitivinicolo Uno staff di progettisti, guidati dall'ingegner Carlo Mombrini è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo delle pavimentazioni industriali garantendo una lunghissima durata unita alle migliori condizioni igieniche di utilizzo all'incontro all'incontro Grazie a tutti.